Ciao a tutti ragazzi e benvenuti a un nuovo video dell'impero delle tenebre semplice ricerca di uno spazio migliore per fare i video eccoci in attimo in diretta con un brevissimo unboxing ma neanche proprio unboxing, proprio una dimostrazione dei nuovi arrivi già sullo sfondo potete vedere un po' di cose carine a cui mi dedicherò nei prossimi giorni ma oggi parliamo degli LBX che Bandai ha riproposto in dei nuovi model kit con un molding aggiornato in confronto a quelli di 5-6 anni fa che propongo in un easy build molto semplice in pochi pezzi riescono a rendere davvero bene vediamo un po' la gamma questo diciamo è il primo ad essere cioè il primo ad apparire nella serie il primo ad essere stato riproposto come molding che chi conosce la serie di videogiochi per PSP e Nintendo DS sa già che si evolverà in lui che ha visto anche il cartone animato infatti io principalmente LBX l'ho conosciuto grazie al cartone animato che è una via di mezzo diciamo tra quello che adesso è il Gundam Build the Fighter perché il Gundam che combattono con i model kit in realtà deriva da questo perché è uscito molto prima LBX un altro ad essere stato modernizzato al primo nemico il nemico casual che tra l'altro come design come potete vedere col monocchio, lo scudo, i colori monotematici ricorda molto uno Zaku e poi naturalmente i due personaggi diciamo i due amici del protagonista che hanno anche loro dei model kit molto particolari una cosa carina è che nella serie fanno vedere che la marca di questi model kit era Teeny Orbit o come potevamo vedere in questo precedente la Kamiya che erano le marche una appunto di progettazione sperimentale e l'altra invece come è anche quella della Kunoichi della ragazza naturalmente del gruppo la Cyberlands sono marche comuni che possono essere comprate in tutti i negozi Teeny Orbit invece era molto particolare finiva nelle mani del protagonista e del suo amico per vie traverse perché non era legalmente in commercio e appunto Achilles è il protagonista della serie AX00 sparisce poco dopo i primi episodi dopo l'intro del gioco per così dire perché si evolve cambiandogli l'armatura non so se adesso bisogna un po' cambiare qua tra l'altro esiste già da anni una versione super deluxe esaurita adesso costosissima che comprende appunto un inner frame neutro su cui ci si può montare l'armatura di AX00 e poi trasformarlo in Achilles qua vediamo un po' le mie cose il manuale è molto semplice tra l'altro è quasi tutto a colori che fa notare con sia inglese giapponese come si deve costruire è ben differenziato nei vari pezzi ti fa anche vedere quasi come fosse un master grade quali sono gli sprue che servono per la costruzione di un determinato pezzo è una cosa molto particolare che rende questa nuova versione semplicissima da costruire tra l'altro gli sprue in sé come vedete nelle mie mani sono davvero pochi come grandezza è superiore una volta terminato a quello che è un SD raggiunge quasi le dimensioni di un Gundam HG è un po' pitozzo non so se avete presente i personaggi di Mega Man della Kotobuki non è tanto più piccola mettiamola così come per gli sprue che in realtà appunto in America i primi LBX furono ribattezzati sprue e dati in pasta ai bambini americani con appunto la denominazione anche sullo sprue di cosa contiene questo fa parte della testa questo fa parte del torace questo invece qua c'è l'icona del piede che vuol dire che fa parte dei piedi molto semplice per vedere appunto che cos'è il pezzo di sprue che si maneggia adesivi ce n'è anche negli adesivi ci sono i simboli per far capire dove vanno inseriti per non confondere un adesivo magari simile tra le braccia le gambe e come potete vedere praticamente la scatola in stile Gundam è finta è praticamente vuota un'occhiata anche a keyless però questo nuovo molding ad esempio uno scudo che è fatto da pezzi sovrapposti quindi le strisce gialle sono davvero gialle ci sono davvero pochi adesivi le giunture sono rigide non sono polycap morbide c'è anche una clear part per il torace e diciamo che una volta assemblato servono davvero pochi ritocchi le parti anche diciamo della testa come i nuovi cross silhouette sono appunto parti sovrapposte che richiedono pochissimi adesivi per dare un senso sia di profondità che di colore diverso dagli altri l'unica cosa un po' triste che infatti penso non utilizzerò o meglio magari farò una fotocopia è il fatto che il mantello non sia un pezzo di plastica o di cartoncino o di carta plastificata come appunto lo sprukiz di batman e di superman che sono già diciamo pretagliati e messi lì è da tagliare dal manuale di istruzioni manuale di istruzioni che è double fast quindi comunque ha sta cosa e purtroppo è da tagliare così c'ha le linee tratteggiate per fartelo capire a mio avviso è un po' una stronzata ecco avrebbero dovuto metterci metterci o una cosa separata invece di farti tagliare il libretto tra l'altro essendo double fast non è proprio bellissimo anche da fotocopiare infatti mi ingegnerò se farlo realmente oppure no però con una bella fotocopia si ha anche la possibilità appunto di spagliare di tagliarlo male o di spiegazzarlo per farci un effetto qua nel senso come al solito le cose ingannevoli bandai te lo fa vedere con tutte le cose quelli sono adesivi quindi nel senso ti fa vedere come secondo loro renda benissimi in realtà le parti sovrapposte ne ha vediamo se qua qua ti fa un po' vedere c'ha anche il pezzo del core sotto il il torace già invece il baku è molto ma molto più trash composto davvero da pochi pezzi tutti monotematici un incrocio tra uno zaku e un dom sandtrooper cattivi in stile trio do rombo team rocket sono questi qua con le loro simpatiche maschere da clown per anche non farsi prendere sul serio comunque con questo cosa gli attaccano la casa al protagonista gli devastano il salotto a colpi di mitra perché sono comunque pericolosissimi questi robottini uno ichi essendo naturalmente per la ragazza è un mecha femminile che però ha un paio di chicche ovvero i kunai e comunque le lame in liar parts cosa che per un modello che costa tipo 7 euro non è fatto male ha una basetta dedicata per tenerla in sospensione infatti a differenza degli altri modelli ha questa simpatica gambina con appunto i piedi piccoli 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 che difficilmente riescono a tenerla in piedi normalmente nel senso una basetta è anche difficile da posizionare normalmente figuriamoci nelle pose più fighe il fatto che adesso sono tutti quanti con la scritta in inglese si capisce anche la storia del personaggio è infatti quella dell'amico di del protagonista che tra l'altro è stato poi riciclato spudoratamente per uno dei personaggi di di nazumi 11 infatti level 5 al marchio che è soprattutto nei cartoni animati e nei videogiochi si vede benissimo com'è realizzato questo mi piace davvero un sacco perché è una sorta di appunto si chiama hunter di cacciatore però in versione lupo mannaro molto tamarro non solo in versione appunto cyborg con il fucile di precisione gigantesco ma ha tutti questi spuntoni sulla schiena ha veramente un look cattivissimo tamarrissimo come vedete la modalità di assemblamento è molto semplice serve davvero poco tempo per realizzarlo e questi cinque sono la prima ondata che è stata rifatta dalla bandai c'è ancora in lavorazione nei prossimi mesi il per così dire cattivo uno emperor sarebbe l'antagonista di achilles il rivale più che il cattivo e poi non mi ricordo adesso come si chiama destroyer mi sembra il primo boss per così che affrontano che è un cattivo che poi diventa amico e gioca insieme a loro più avanti ci sarà arlecchino che tra l'altro è molto carina come molding perché è tipo maschera veneziana con l'arlecchino con la falce della morte però quello non è stato ben specificato se è un nuovo tipo di molding o se è davvero una novità perché poi devo anche andare a vedere di personaggi in sé ne erano usciti già tanti sia dalla prima che dalla seconda serie infatti nella seconda serie Achilles viene quasi distrutto e rinasce come Odin in una nuova forma con anche l'aereo di supporto che gli si aggancia e lo trasforma ulteriormente devo dire che sono stato abbastanza soddisfatto dell'acquisto perché appunto ho speso neanche 30 euro per 5 modelli e sono molto validi hanno delle belle plastiche da quello che abbiamo potuto vedere appunto insieme sono molto validi nella costruzione perché sono parti sovrapposte usano molti meno adesivi di quello che ho visto nelle versioni precedenti il packaging appunto delle scatole è bello purtroppo penso che terrò solo quella di Achilles che durante il trasporto si è anche bugnata però con quella ci metto tutte le armi le piccole cose che avanzano anche se non ce ne dovrebbero essere tante in modo da costruirli spacchettare le scatole e ricavare spazio infatti tutti e cinque adesso mi occupano un bel po' questo muraglione di scatole che in poco tempo verrà smazzato cioè da dire che il primo che voglio fare appunto è AX00 anche per un fatto puramente di design di partire dal primo prototipo che esce nel videogioco e che darà poi a vita appunto Achilles che in realtà come molding e come sistema di costruzione sono totalmente diversi perché guardando un po' il libretto sono molto diversi anche come armi lui ha una pistola e un bastone allungabile mentre Achilles appunto ha una lancia e uno scudo in stile spartano però sono tutti e due molto validi poi sicuramente passerò a fare Hunter Hunter mi sballa davvero un casino è cattivissimo e poi mi dedicherò agli altri due in generale proprio mi piace fare modellismo mi piace provare anche cose diverse può non sembrare ma tra costruire un gumpla di una qualsiasi serie di gundam già c'è una differenza tra una serie e l'altra costruire un ibo e costruire un appunto universal century c'è differenza c'è differenza tra diversi tipi di zaku i zaku anche del seed sono completamente diversi dagli zaku classici poi adesso ci sono quelli di origin che sono ancora diversi costruirò anche quelli e un lbx è diverso da un sd è diverso da un cross silhouette è diverso dai personaggi appunto della kotobukiya super deformed è diverso da altri model kit che ho fatto e questa nuova tipologia che in realtà è parzialmente riciclata con le parti già sovrapposte che si uniscono e una discreta mobilità li rende certamente validissimi diciamo appunto che se amate i modellini soprattutto robotici o comunque con un design molto accattivante sono un'ottima scelta a un prezzo veramente esiguo basta considerare che il goldrake che si vede sullo sfondo poi prendiamogli un po' un'occhiata che eccolo lì piccino è tutto bello fantastico è costato di più di loro 5 messi insieme e comunque sono dei model kit interessanti purtroppo appunto non avendo ancora una postazione ben fatta per fare i video mi viene difficile fare la costruzione in diretta del model kit anche se sono molto semplici quindi poi sul blog mi raccomando seguite anche quello impero delle tenebre punto blogspot punto com li pubblicherò appunto le foto e un po' di descrizione della costruzione l'unboxing e la build di questi model kit così se siete interessati potete vederli e darci un occhio non solo appunto le foto ingannevoli della bandai perché comunque un po' di adesivi ce li hanno non tutte le parti sono rifinite come ti fanno vedere nelle foto promozionali infatti giusto per dire hunter ha questi spuntoni neri ma come possiamo simpaticamente vedere gli spuntoni nella scatola finiscono bianchi quindi sono ste cose che bandai ingannevolmente nella scatola dietro anche comunque ti fa vedere che sono colorati cosa che non è assolutamente vera sono pochissimi modelli in cui ti viene mostrato diciamo la versione non paint quella costruita secco proprio per questo mi fa piacere fare gli unboxing e pubblicare le foto dei model kit che realizzo perché appunto anch'io come costruttore comunque alle prime armi perché prima di essere un esperto ce ne vuole davvero di tempo e modelli costruiti per definirsi davvero un esperto però devo dire che alcune cose ormai non mi ingannano più quando guardo le foto promozionali capisco e vedo subito che ci sono delle cose ritoccate alcune tristemente adesso fanno anche vedere i modelli renderizzati 3d e non il modellino vero perché spesso non hanno ancora finito di costruirlo o quando te lo fanno vedere a dei minuscoli particolari che si vede che sono colorati si capisce che poi lì c'andrà un adesivo o ancora peggio rimarrà grigio o appunto come gli spuntoni qua di hunter sono bianchi sì adesso che io ho preso un po' di confidenza con un marker nero li coloro in un istante quindi ci faccio la punta nera il tondino dorato è ancora difficile e lì appunto non ci sono adesivi per farlo però con l'esperienza volendo ci si prova quindi il bello appunto è anche vedere gli unboxing delle persone che li hanno costruiti le foto della gente comunque che si è sbattuta a realizzarli ti dà anche qualche consiglio su è meglio costruirli e poi colorarli è meglio colorare o rifinire ogni singola parte questi sembrano model kit molto semplici appunto a prima vista come abbiamo visto quindi poche rifiniture pochi adesivi però in alcune parti andrà dato un po' di colore per farli rendere al meglio e poi magari più avanti farò un video quando avrò finito di costruirli tutti quanti per farvi vedere come sono venuti direi che per adesso è tutto e tra poco mi dedicherò alla costruzione appunto di AX00 per adesso quindi è tutto vi saluto vi auguro una buona domenica una buon proseguimento di serata e ci vediamo alla prossima ciao a tutti a tutti